Una buona giornata a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, siamo in diretta alle 7 del mattino, un buongiorno anche a chi ci segue in replica, ovviamente siamo in diretta per vedere e dare un'occhiata ai giornali che abbiamo selezionato, le pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina, come sempre dai due quotidiani, il resto del carino Corriere Adriatico, che hanno gli inserti provinciali, in questo caso, nel nostro caso, ci occupiamo prevalentemente della provincia di Pesaro e Urbino, anche per questioni di tempo e mi dispiace per tutti davvero coloro che comunque ci seguono da tutta la regione Marche, sono tantissimi e li salutiamo, li ringraziamo e chiediamo scusa perché non abbiamo tempo per poter leggere tutte le altre pagine, però ogni tanto qualche notizia, le più importanti, come vedremo tra poco, ce n'è una di cronaca, le andiamo a leggere anche da lì. Cominciamo dal Santo, come sempre, vediamolo subito con la grafica, oggi è il beato Carlo Acutis, il sole sorgerà alle 7,19, tramonterà alle 18 e 32. Uno sguardo anche al tempo, come sempre con il sito della protezione civile delle Marche, per oggi c'è un sereno poco nuvoloso, domani tornano le piogge, rovescio temporale sparsi lungo la fascia costiera al mattino, mentre precipitazioni sparse anche caratteri di rovescio insisteranno maggiormente nel pomeriggio nelle zone interne, mentre giovedì il tempo resta perturbato nella zona sud meridionale della regione, soprattutto nelle prime ore della giornata, poi tempo stabile per la fine settimana. I temi d'apertura dei quotidiani, allora partiamo dal Corriere Adriatico, si parla di edilizia, boom di pratiche, entro l'anno più di 3.200 documenti elaborati dal servizio urbanistica del Comune di Pesaro, più tecnici e digitalizzazione, l'assessore Nobili dice stiamo vivendo un momento eccezionale con il settore ripartito alla grande. Centropagina però invece le scritte, che sono apparse anche in chiesa, così come in comune, che riguardano la contestazione nei confronti di chi vuole questo Green Pass. Imbrattato il municipio, poi abuso d'ufficio da rivedere, consensi all'idea della Mancinelli, basta burocrazia, poi in aumento gli alunni positivi e alla Tocci di Cagli, quattro classi finiscono in isolamento, Green Pass e tamponi, le farmacie aderenti amplieranno gli orari a Pesaro e sempre da Pesaro il Comune nomina gli esperti di Rossini cittadini benemeriti. Per comprarsi le sigarette invece, qui siamo sulla cronaca, 19enne minaccia la madre, il figlio accusato di atti persecutori ed estorsione, angheria nei confronti del fratello, a lui diceva tipicchio, poi palo telefonico a rischio crollo, disagi per oltre 200 famiglie. Adesso il Carlino di Pesaro, invece scontri a Roma, indagini su tre pesaresi, sono le persone coinvolte nella manifestazione finita nel caos e i loro volti ripresi dalle telecamere. Verso l'inaugurazione del parcheggio da 120 posti dietro alla stazione di Pesaro, pronto in due settimane, poi il corpo in mare trovato, il geometra scomparso, a centropagina la corsa ai tamponi, boom di richieste in vista di venerdì, le farmacie si organizzano, a Gabice no green pass, scritte e insulti sui muri del Comune. C'è il problema anche dei trasporti, autisti Novax, corse a rischio, summit dal prefetto. Benedetta influenza si torna a vaccinare in oratorio, nella chiesa di Loreto a Pesaro, poi Rossini, onorificenza ai cacciatori di Cimele, il doppio omaggio. Poi lo sport con il calcio e il basket, visse da record mai fatto meglio in 18 anni di C. E Ario Costa che dice VL finale inaccettabile. E adesso andiamo a leggere le pagine interne. Abbiamo anche qualche pagina presa dal Nazionale. Perché? Perché anche a sinistra i no green pass sfilano per le strade, vedete, di Roma. Studenti, Cobas, centri sociali, scioperi, manifestazioni per il lavoro, ma la protesta si salda a quella contro la carta verde. Cioè doveva essere un classico sciopero generale contro il governo e per il lavoro. Ma alla fine è diventata una protesta generale contro il green pass che fra tre giorni diventa obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati. Dopo gli scontri di sabato sera a Roma e Milano, ieri nuove manifestazioni e cortei hanno invaso le strade e le piazze di tutta Italia. La rabbia domina ovunque. Nel Piacentino circa mille lavoratori aderenti al sindacato Sicoba si hanno bloccato il magazzino di Amazon a Castel San Giovanni. A Roma invece disagi per i trasporti e traffico in tilte nelle strade. A Trieste, poi insomma in tantissimi altri posti. E non solo. I sindacati sono scesi in strada in protesta contro le decisioni del governo e del premier Mario Draghi. Tante le bandiere di rifondazione comunista, di potere al popolo e di altri partiti di sinistra. E anche gli studenti si sono scatenati nei cortei a Torino dove gli studenti hanno dato alle fiamme la gigantografia del premier Mario Draghi davanti alla sede del MIUR. Gli stessi ragazzi hanno gridato ci avrete abbandonati e ci avrete nelle piazze ancora più arrabbiati. Insomma, la rabbia che monta nel paese è tanta e non è solo quella delle violenze di destra. Insomma, la rabbia, come abbiamo visto, è anche a sinistra, è bipartisan. E quello che noi vi stiamo dicendo, per chi segue la rassegna stampa ovviamente non è una novità, però prima dovevo andarla a cercare, queste notizie che già davano l'idea di quello che è il sentore, di quello che poi sarebbe successo e che oggi si è verificato in questi ultimi giorni in maniera dirompente e che da qui al 15 sicuramente aumenterà ancora di più. Ebbene, quello che vi dicevo qualche settimana fa, qualche mese fa, adesso lo scrivono anche i cosiddetti giornaloni. Giornaloni che, tornando a pagina 4, cioè tornando nelle pagine locali, pagina 4 quindi del Carlino di Pesaro, titola Inferno di Roma, si indaga su tre pesaresi. Il ristoratore, c'era anche il ristoratore Roberto Carriere che conosciamo, che però condanna le violenze. Eravamo a protestare contro il Green Pass, ma con correttezza. Questi episodi sono intollerabili. Tra l'altro lui racconta che a un certo punto è partito da Roma, al 21 era già nel suo locale, quindi di fatto non si è accorto, non ha visto nulla di quello che è successo, l'ha poi seguito in un secondo momento attraverso i media. Però dice una cosa che credo sia indicativa. Si respirava, racconta Carriera, un'aria molto pesante, come se dovesse accadere qualcosa. E si riferisce a Piazza del Popolo a Roma. Tra l'altro, dice lui, ancora eravamo tantissimi e una cosa che mi sono detto quando mi trovavo in Piazza del Popolo è che c'era troppa poca polizia per le dimensioni di quell'evento. Poi ovviamente di quello che è accaduto, dice lui, non ho visto niente se non le immagini del telegiornale. Poi Davide Eusebi gli fa notare che c'era anche un componente del consiglio direttivo della sua associazione che si chiama Io Apro, però Carriera risponde no, sì, è vero, ma non è di Pesaro. Si è cacciato nei guai da solo recandosi nei luoghi degli scontri e mostrando sul telefonino le immagini della facciata e della sede della CGL, insomma. Poi scritte insulti invece sui muri del Comune. Qui è il Comune però di Gabicce, la firma dei No Pass, il Sindaco Pascuzzi dice paghiamo il clima di odio a livello nazionale, telecamere al vaglio delle forze dell'ordine, sporcata anche la parete della Chiesa, gli episodi collegati ai precedenti denunciati a Cattolica. Un clima d'odio naturalmente che è innegabile, esiste, c'è, ma che ha un'origine, una genesi che ovviamente e onestamente, coscientemente, qualcuno dovrebbe ogni tanto ricordare. Senza Pass, due milioni e mezzo di lavoratori. Questo è un altro articolo che ho selezionato a pagina 3 del Carlino che potrete leggere, a firma di Alessandro Farruggia, ingorgo tamponi e rischio caos, da venerdì obbligo della certificazione per entrare in ufficio o in fabbrica, sanzioni pesanti per i trasgressori. Quindi questo famoso D-Day per il Green Pass nel mondo del lavoro si avvicina e da venerdì per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati bisognerà presentare la carta verde. È una cosa che davvero letta così fa venire la pelle d'oca. E per i trasgressori non si scherza, rischiano la sospensione immediata dello stipendio fino a che non si mettono in regola. Cioè, cosa vuol dire fino a che non si mettono in regola? Fino a che non si vanno a fare la puntura. Fino a che non si vanno a fare il vaccino. Questo è tradotto, questa è la sintesi, questo è il dato che è inconfutabile. Questo è. Io non ti faccio entrare a lavorare finché tu non ti fai la puntura. Quella che tu non vuoi fare, quella che tu hai deciso di non fare in libertà, io invece ti obbligo a farla. E se tu non la fai, io non ti faccio andare a lavorare. Io non ti do lo stipendio. Io ti faccio fare la fame. Questo è, tradotto in sintesi. Hai voglia che voi vi arrabbiate con me perché io faccio sempre la solita filippica. Ma questo è un dato di fatto. Questo è quello che sta succedendo. E poi non ci si può lamentare se nelle piazze scoppiano, per carità, condannabilissime, per carità la violenza, mai, è ingiustificata. Però non ci si può far finta di niente e non si può cadere dal pero quando ci si vedono tutte queste persone che protestano e che non sono tutti fascisti o dei centri sociali. Ci sono anche tante persone comuni, tantissime, soprattutto, sono la maggioranza. Trenta autisti Novax, scrive il carino di Pesaro, Trenta autisti Novax che evidentemente dal 15 non potranno salire sui mezzi e guidare gli autobus. E che cosa succede? Succede che se non ci sono questi autisti, trenta autisti che guidano gli autobus, chi li guida? Chi li guida? Chi li guida? Non ci sono sostituti. Corse a rischio, oggi summit dal prefetto. Se una parte dei non vaccinati rifiuterà anche il tampone, saranno inevitabili i disagi su qualche linea. Adria Bus cerca soluzioni, vogliamo salvaguardare gli autobus del mattino, quelli per gli studenti e i lavoratori, sacrificando quelli praticamente meno utilizzati. Praticamente impossibile trovare altri conducenti in caso di defezioni, anche perché per ora non possiamo assumere. Intanto la pagina di Fano, Anna Marchetti, scrive, un po' come si è organizzata una delle tante aziende del territorio, controlli automatici e vigilantes nelle aziende, così gli imprenditori organizzano i checkpoint sul Green Pass in vista del 15 ottobre. I checkpoint per andare a lavorare e per mostrare... Cioè, va bene. Ma gli oneri non possono essere solo nostri. Andreani della Flonal dice cosa faremo in caso di assenze? Al massimo fermeremo un reparto, un reparto ovviamente di produzione. Comunque, vedremo poi quante saranno queste defezioni, vedremo quello che non riesco, ripeto, ma io cerco sempre di commentare insieme a voi, anche se poi sembra un discorso a senso unico, ma do degli input. Io torno a non capire come mai noi siamo un paese, quello dell'Italia, che ha più dell'80%, 85% di persone vaccinate. Perché tutto questo accanimento? Perché vuoi arrivare al 100%? Che senso ha? Cioè, questo non riesco a capire. Ci sono paesi che hanno molti meno vaccinati di noi, non esiste il Green Pass, si vive lo stesso, si vive soprattutto in modo più sereno. qui siamo al, si vive col mal di stomaco ogni giorno, ecco, tanto per essere molto pragmatici. E non è una cosa che, non è una cosa fattibile, anche perché io voglio vedere, anche se domani mattina finisse, scomparisse improvvisamente il Covid, non esistesse più il virus, voglio vedere come rimettiamo in piedi la società dopo averla quasi completamente distrutta. Ma comunque, questo, vedremo anche questo. Intanto, sciopero a scuola, bambini tenuti fuori, i vigili aspettano l'arrivo dei genitori, conseguenze inattese alla Leopardi, qui siamo nelle pagine di Senigallia, per la mobilitazione anti-Green Pass. Il personale ATA non ha aperto i cancelli. Dunque, si parla di questo, di questo disguido dove questi bambini sono rimasti fuori dalla scuola primaria Leopardi ieri mattina e per quelli arrivati con lo scuola busso i vigili hanno atteso l'arrivo dei genitori per poi riportarli a casa. Sulla pagina di Senigallia invece del Corriere Covid e i balli proibiti la polizia chiude un locale. Il provvedimento di stop è arrivato per il 5 di Ostravetere dopo i controlli i ragazzi erano senza mascherina e in tanti troppo vicini. Schianto auto contro un furgone tre feriti ieri mattina poco dopo le 12 tra via Raffaello Sanzio e via Zanella e poi il pronto soccorso rischia di chiudere sempre da Senigallia la denuncia del consigliere regionale Santarelli il personale è insufficiente liste da tese che si allungano la situazione è al limite la regione intervenga. Ora dobbiamo andare sulla pagina di Macerata io ho trovato questa notizia sulla pagina di Macerata del resto del Carlino siamo a pagina 3 torniamo un attimo sul discorso dell'influenza che ieri commentavo era magicamente scomparsa l'anno scorso quest'anno è tornata l'influenza normale non il covid l'influenza normale e quindi c'è questa idea di far vaccinare con la doppia dose quindi il vaccino anti-influenzale normale e il vaccino anti-covid ma a questo punto io leggo c'è lo stop dell'Asur alla doppia iniezione quindi se ieri sembrava che si potesse fare sia una che l'altra nella stessa seduta oggi invece si apprende che non sarà così quindi forse ci avranno pensato bene forse qualcuno avrà detto che non è il caso insomma come sempre vediamo come va o la va o la spacca e quindi adesso l'Asur dice stop alla doppia iniezione la campagna contro il virus stagionale partirà il 20 e il 22 di ottobre tra il 20 e il 22 di ottobre tramonta l'ipotesi della somministrazione insieme al siero contro il covid ora questo lo diciamo oggi poi bisogna vedere continuare a vedere leggere informarsi perché magari domani scapperà fuori un altro che dirà no no si può fare e quell'altro ancora che dirà ma no forse sarebbe meglio intanto tu sei lì che aspetti con la spalla per farti fare una o due punturine a seconda di cosa decideranno e come gira il vento rissa con feriti denunciati quattro giovani la polizia è risalita ai ragazzi qui siamo nella pagina di Ancona che avevano provocato disordini in piazza del papa la notte del 2 ottobre in 5 finirono all'ospedale sotto invece la notizia che vi dicevo poco fa in apertura trovato morto in mare un papà quarantenne la vittima è Christian Podestà a riconoscerlo ieri i genitori l'uomo era stato visto gettarsi in mare a Marcelli per poi essere recuperato a Porto Recanati il geometra era andato via da Pennabilli venerdì senza lasciare tracce l'ipotesi è quella del suicidio lascia il figlioletto e la compagna c'è un'altra notizia pagina 9 dal Carlino di Ancona si parla di un sacerdote lo andiamo a vedere sulla fotografia Donaldo Pieroni parroco di Camerano siamo vicino ad Ancona che ha perdonato l'uomo che praticamente gli ha reso la vita un inferno lo minacciava continuamente non solo Donaldo aveva ricevuto 5 lettere piene di odio ieri il tribunale ieri però lui in tribunale ha ritirato le denunce perché ha detto Donaldo non avevo mai conosciuto questo uomo di persona però ultimamente mi ha chiesto scusa molte volte chiese a fuoco minacce di morte insomma ne aveva fatte 4 incendi nell'arco di 3 mesi alla fine Donaldo lo ha perdonato torniamo a Senigallia dal Corriere Adriatico ladri scatenati blitz in 3 abitazioni colpita da un malore davanti alla tv sciocca a tre castelli l'anziana si è ritrovata i banditi praticamente in salotto erano tutti incappucciati sono stati ripresi anche dalle telecamere e però questa donna quando immaginate voi insomma vedersi queste persone improvvisamente a casa nella vostra abitazione questa donna anziana si è sentita male e quindi è stata poi soccorsa eccetera sono stati intanto rubati soldi in questi blitz in questi raid ladreschi salumi monili in oro su un terrazzo orme di scarpe infangate e poi ancora dalla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico muore ad un mese dall'incidente non ce l'ha fatta la 74enne investita da un SUV sulle strisce pedonali in via dei pini e poi bidoni in mezzo alla strada e auto in sosta danneggiate ancora cronaca da Senigallia invece andiamo sulla pagina adesso di torniamo sulla pagina di Pesaro tormenta la mamma con minacce per ottenere i soldi per le sigarette il figlio 19enne accusato di atti persecutori e distorsione angherie anche verso il fratello il tutto per avere soldi per comprare le sigarette una serie di episodi di violenze cresciute nel tempo che potrebbero costare caro di un pesarese di 19 anni e poi il baseball in lutto per Marcello Marfoglia che è scomparso a 92 anni lascia i figli Paolo, Alfredo, Marco e Cristina ai funerali domani pomeriggio alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore nel quartiere di Soria Marfoglia è stato il capostipite di una dinastia che ha dato molto alle due discipline sportive appunto softball e baseball Marce Nord primo prelievo di organi del 2021 il primario Tempesta dice le donazioni sono un atto d'amore ma frenate dalla pandemia tornando a Fano sul Corriere Adriatico palo del telefono a rischio crollo via Fenile strada chiusa e disagi il vento e la pioggia la base del danno sulla strada che porta Ronco Sambaccio sono interessate circa 200 famiglie dunque il traffico stradale interrotto per diverso tempo su via Fenile ieri nell'omonima frazione di Fano a causa di un palo della rete telefonica che si era inclinato e minacciava di crollare a terra un nuovo disagio dunque provocato dal maltempo di questi giorni il vento che nella giornata di domenica scorsa aveva ripreso a soffiare con una certa intensità e soprattutto ulteriori scrosci di pioggia che hanno allentato il terreno dove era appunto piantato questo palo che poi è diventato instabile mentre sulla pagina della Valcesano la squadra di Nicola Barbieri che ha presentato ufficialmente la sua giunta quattro conferme più tinti a sette giorni dalle elezioni sindaco annuncia le deleghe tenendosi per sé l'urbanistica mentre sotto San Costanzo Stalli Rosa per future mamme l'idea è stata promossa dall'assessore Anna Maria Sabatini si parla di quei parcheggi che poi nessuno rispetta a dire il vero pochissimi rispettano non rispettano quello per i disabili figuriamoci per le mamme in attesa mentre sulla pagina 29 del Corriere Adriatico ecco le fotografie di questo ieri era molto piccola invece oggi abbiamo addirittura una sequenza di questo orso che è stato immortalato sui Sibillini indagini per cercare il DNA dell'orso non è pericoloso non va infastidito il Parco dei Sibillini dopo l'avvistamento della Guida Monachesi attiveremo un monitoraggio ancora sorpresa spunta anche questo mammifero ripreso sui monti da una videotrappola c'è una biodiversità straordinaria questa martola che insomma è stata ripresa da queste fototrappole insomma che sono sempre un po' affascinanti perché nella notte ogni tanto spuntano fuori questi questi esemplari incredibili e chiudiamo con la pagina del resto del Carlino di Fano il Carlino di Fano ogni tanto si dedica a dei personaggi conosciuti personaggi noti della città di Fano oggi il Carlino va a casa di Euro Paterniani lo vediamo nella fotografia tanti sicuramente tantissimi lo conosceranno e praticamente la curiosità qual è? è che Euro Paterniani vive sei mesi a Fano sei mesi a Cuba e quindi vive la sua vita praticamente sempre al sole perché qui viene d'estate la va d'estate e quindi sempre con un clima decisamente piacevole Euro Paterniani 73 anni un fanese che ha scelto di vivere sei mesi a Fano sei mesi ai Caraibi precisamente a Cuba lo fa da ormai 13 anni scrive Silvano Clappis sul giornale di questa mattina così la sua casa in zona trave richiama molto le atmosfere cubane e quella a Cenfuegos sull'isola Caraibica che ha molto di Fano e dell'Italia Euro come lo chiamano amichevolmente tutti è conosciuto non solo per il suo passato professionale all'ospedale Santa Croce la sua attività di sindacalista nella CGL quella politica con due mandati da consigliere comunale e poi nella segreteria di Scriboni in regione quanto per essere stato fin da ragazzo un intraprendente organizzatore un ottimo alzatore anche di pallavolo quando la pallavolo non richiedeva certe altezze e soprattutto un generoso che se può darti una mano lo fa volentieri c'è tutto questo racconto interessante con domande e risposte che appunto da europaterniane su questa scelta di vita che in una situazione un po' come questa è molto invidiata diciamoci la verità ovviamente non tutti possono permetterselo ma comunque con la fantasia possiamo farcela noi intanto ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera come sempre alle 20 e 30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.